Ciao amici, oggi vi mostro come impostare il nostro router Iliadbox per permettere al nostro NAS domestico, quantomeno io ho un NAS domestico, di essere raggiungibile al di fuori della nostra rete domestica. Quindi oggi che succede? Attacco il NAS alla rete, vado sull'indirizzo del NAS, il classico 192.168.1. qualche altra cosa e accedo ai miei file oppure via FTP. Ho la necessità di poter accedere allo spazio presente su questo NAS anche al di fuori di casa e per far questo vi mostro un pochino gli step da effettuare. E sul NAS, chiaramente vi faccio vedere quello che ho fatto sul mio di NAS, sul vostro immagino ci siano altri programmi che però credo alla fine facciano più o meno la stessa cosa. Quindi da una parte vi mostro cosa gestire a livello di NAS, dall'altra come invece impostare il router per permettere l'accesso da remoto. Comincio col NAS. Questo è il pannello amministrativo del mio NAS Xizel NSA325v2. Ho installato tra i pacchetti disponibili quello che si chiama OnCloud e questo pacchetto in pratica permette proprio di creare questo spazio, questo spazio cloud, al quale si può accedere semplicemente cliccando il link che ci viene mostrato qui. Come vedete però questo link è un link che ancora appartiene alla nostra intranet. Io voglio che questo link sia raggiungibile anche al di fuori della nostra rete domestica ed è per questo che ho installato, oltre a questo pacchetto, anche un altro pacchetto che nel mio caso si chiama DDNS, che è in pratica un pacchetto che ci permette di gestire correttamente l'accesso al router tramite un indirizzo che viene utilizzato dall'esterno e nel caso di IP dinamico. Questo perché nella mia rete di casa io vengo visto dall'esterno con un certo indirizzo IP e indirizzo IP che potrebbe cambiare. Tramite questo pacchetto ogni qual volta cambia l'indirizzo IP viene assegnato un alias che invece non cambia, in maniera tale che per accedere alla rete di casa mi basta scrivere sempre, anziché un indirizzo IP che può cambiare a piacere, un indirizzo testuale che potrebbe essere per esempio vai a casa mia, appunto il sito che mi offre questo particolare servizio, slash pkg slash oncloud. Chiaramente poi sceglierete voi il tipo di servizio che preferite, io ho fatto questa cosa tramite no IP, quindi mi sono registrato un servizio gratuito, ho scelto un alias che viene assegnato al mio indirizzo IP esterno e in pratica collegandomi a quest'alias io riesco sempre ad accedere al mio, diciamo, indirizzo, alla mio NAS anche dall'esterno, senza dover necessariamente ricordarmi l'indirizzo IP. Dunque, che succede? Cliccando qui, vi faccio vedere che apre qui la finestra, ho l'accesso al mio spazio cloud che è quello che vedete. Questo stesso spazio è accedibile dall'esterno semplicemente cambiando questa prima parte cioè voglio che sia accedibile anche dall'esterno della mia rete, quindi cambiando questo che è l'indirizzo della rete di casa mia, io qui devo avere un altro indirizzo che non sia quello di casa. Per far questo, in pratica, tramite quel servizio che ho, il pacchetto che vi citavo prima, da me si chiama dns, da me si chiamerei in un altro modo, vedete che la rete che mi sono creato ha un nome che finisce per, vabbè, vi camuffo un pochino tutti i dati, però ho scelto un alias .ddns.net e l'ho fatta tramite un IP. Quindi, se io mi copio questo indirizzo e lo sostituisco a 192.168.1.125, vedete che comunque riesco ad accedere al mio spazio cloud. Ok, qua sto facendo un giro un pochino più ampio che vado dall'esterno anziché andare tramite il mio indirizzo di casa, il mio indirizzo di rete interna, quindi il classico 192.168, bla bla bla. Per far questo, però, devo spostarmi sul router, quindi andare tra i parametri della mia Iliadbox, andare nella sezione gestione porte e abilitare questo DMZ, sarebbe zona demilitarizzata, una roba del genere, e assegnare l'indirizzo IP del mio NAS, che in questo caso è il 192.168.1.25, a questa zona. Salvato in questa configurazione, posso tranquillamente utilizzare l'alias che mi sono creato, come vedete, per accedere al mio spazio dall'esterno. Vi faccio anche vedere che succede se disattivo questa cosa. Quindi, non ho più zona demilitarizzata, come viene detta qui. Quindi, se provo ad accedere di nuovo al mio spazio tramite l'alias che mi sono creato, che succede? Succede che questo alias cerca di puntare alla mia rete, ma il router dovrebbe bloccare la connessione. Quindi, facciamoci una prova. Sto cercando di accedere dall'esterno, vedete che ci sta mettendo un po' di tempo e non avrò accesso alla fine. Andrà in timeout. Intanto lo lascio girare, ma ecco, vedete, non riesce a raggiungere giustamente il sito, ma vi faccio vedere che chiaramente il mio spazio cloud è ancora attivo perché raggiungendolo tramite indirizzo IP della mia sottorete di casa, lo spazio è tranquillamente disponibile. Dunque, banalmente, gestione delle porte, attivo la zona demilitarizzata, indico il numero dell'indirizzo IP del mio NAS e quindi, ritornando a utilizzare l'alias, accedo tranquillamente dall'esterno al mio spazio. Poi, chiaramente, io non so quali sono i tool che sono messi a disposizione dai vostri router, però io con questo tool posso creare proprio delle utenze. Qui c'è la mia utenza, però posso creare anche altre utenze con le quali condividere delle cartelle specifiche, quindi qui poi avete facoltà di condividere anche con altre persone quello che vi interessa. Spero di esservi stato utile, al solito lasciatemi commenti, riflessioni o altro e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!